Guarda Lisa, sto andando da casa da tuo marito, già cammino ad abello, ma adesso ti faccio camminare per l'abello. Questo cazzo di fax che mi avete venduto prima di tutto, vai ad usare il tratto a casa quando metto il foglio. Guarda, senti eh. Senti. Cazzo, ma che tu devi fare in tende, ma cosa si intende? Comunque fa un rumore, ma la tua tratta a casa, metto il fax dentro per inviarlo e mi diventano coriandoli, cioè mi rompe tutto il foglio. Cosa devo fare io? Non ce l'ho manco due mesi, è un Samsung SF370. Io vado lì e distrò il subito, Lisa, sai. L'ho pagato 220 euro. Ah, in c***o, è casino. C'è un po' di chiudere il foglio e mi vestito una farrancata coriandolo su. E te che ci stico a segno, te mi vestiti e mi tu cambia di in euro con questo cazzo di fax? Cambiamelo se mi senti. Fatti sentire, urgente.